e siamo in perfetto orario siamo in perfetto orario sono, manca qualche minuto o mezzanotte come c'è l'elettola poi lei si trasforma quindi dobbiamo finire in tempo ci siamo Art Sound, Generoso Lodi Ivan Lodi, grazie per questa serata Ivan è generoso tutti e due guardiamo chi è che vince la decima edizione School Movie Cinedu School Movie Cinedu School Movie Cinedu Viaggio nel Tempo dove siete? allora siete i vincitori assoluti sì un libro, cinque amici e un meraviglioso viaggio nel tempo attraverso cinque personaggi siamo passati nei vostri mercati tra i vostri siti archeologici nei vostri desideri più profondi nella voglia di salvare il tempo e lo spazio di credere nei sogni, di non mollare male le emozioni sono state tante venite, venite tanto sul palco e forse siamo ancora lì tra le pagine di quel libro che Roberto sta sfogliando grazie per averci saputo raccontare una storia meravigliosa che ci ha lasciato, che non ha lasciato nulla a caso e il premio vincitore assoluto va a voi ragazzi complimenti città di Borsici eccoli qua eccoli qua ma che belli che siete quattro protagonisti che non ha lasciato nulla a caso di gioco che ci sono delle scoluzioni è quello che è che non è che non ha lasciato nulla a caso se siete se siete Grazie a tutti. Grazie a tutti.